Musica Le 7 buongiorno, bentrovati, buona domenica a tutti. Che cosa succede adesso, spenti i riflettori sul G7 di Borgo di Ignazia? I leader europei giocano le loro partite in vista delle nomine importanti alla presidenza della Commissione, del Consiglio Europeo. Di questo si occupano i giornali, così come della conferenza di pace in Svizzera che si apre oggi per cercare un accordo di pace sull'Ucraina. Conferenza, lo sapete, alla quale la Russia non è stata invitata. Non ci sarà neanche la Cina, ma sono diverse le posizioni in campo. Questo troviamo oggi sui giornali, insieme a due di quelle che sono sicuramente le foto del giorno. Quella di Kate Middleton che torna in pubblico con un sorriso che, come scrive il giornale, è anche una speranza. E' tanto azzurro perché ieri c'è stato l'esordio dell'Italia agli europei con una buona vittoria in rimonta per 2-1. Dopo un inizio che definire shock è sicuramente corretto. Andiamo a vedere però i titoli d'apertura. L'Italia conti di più in Europa sono le condizioni di Giorgia Meloni con le posizioni italiane per la partita europea che comincia per l'appunto oggi. Tensione con le opposizioni sulla rissa in Parlamento. Poi si parla anche di giustizia e sul tema aborto che ha diviso lei e il Presidente Macron in primo giorno di Vertice. Parla di polemica artefatta. Sulle nomine, ed è la questione che ci interessa di più, il Vertice von der Leyen Scholz-Macron che i giornali analizzano e che analizzeremo anche noi nel nostro approfondimento. Ecco il messaggero. Meloni, Europa, l'Italia pesi di più. La Premier chiude il Giustette Pugliese. Da domani al via la trattativa per la Commissione. Il Vertice, un successo indiscusso. Von der Leyen bis, si comprenda il messaggio delle urne. Oltre all'Italia c'è anche la cronaca, come vedete, la lite per beni all'asta. Due fratelli uccisi in strada a Caserta. Spari a bruciapelo dopo un inseguimento in auto. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. La Repubblica invece. Torniamo alla battaglia sulle nomine per l'Unione Europea per il dopovoto. I 27 leader si vedono domani. Il no dei socialisti all'alleanza con Meloni. Bollata da Olaf Scholz come di estrema destra. Cacrepe nel Partito Popolare su Ursula. La Premier chiude il G7. L'Europa riconosca il peso dell'Italia. Chiede sulle risse in Parlamento. Dice sono stati provocati dall'opposizione. Ecco il Vertice a Lucerna. Gli ucraini che dicono porteremo un piano di pace ai russi. E ci sono diversi consiglieri intervistati sui giornali. Lo leggeremo nel nostro approfondimento. Che raccontano qual è questa proposta. Quale potrebbe essere il piano di pace di Kiev. Eccolo qui in primo piano sulla stampa. Siamo pronti al dialogo. Via al summit di Lucerna. Mosca apre la Cina media. Tajani. Putin chiede che Putin vada al tavolo. La Premier dopo C7 chiede invece più peso nell'Italia. All'Italia e nell'Unione Europea. Scholz dice lei è di estrema destra. Anche la stampa non rinuncia al brivido azzurro in primo piano. Nella fotonotizia di oggi per la nazionale di Spalletti. Che rimonta lo svantaggio iniziale. Lo ritroviamo. Barella autore del gol del vantaggio anche sul giornale in primo piano. Anche se l'apertura come vedete per il quotidiano dei Sallusti oggi è in controtendenza rispetto a tutti. Ci parla di una svolta sulle imposte. Cioè di tasse dimezzate per chi fa pace con il nuovo fisco. Stiamo parlando anche del concordato. Un anno di sconto al 50% a chi si mette in regola. Non solo. Se proseguiamo su questa linea. Il Sole 24 Ore parla di uno sconto fino al 30% e parliamo di concordato. In caso invece di sospensione dell'attività. Per eventi eccezionali può scattare la riduzione infatti della richiesta al fisco. Sole 24 Ore che si occupa. Vi leggerò un commento interessante su questo. Di una nuova guerra mondiale. Quella che spesso non consideriamo ma che è di fatto una vera e propria guerra mondiale. In questo caso dei prezzi e dei dazi. Come sarà la nuova battaglia? Stati Uniti e l'Unione Europea provano a contrastare l'aggressività di regista cinese. Pechino contrattacca sull'agroalimentare. La Germania prova a trattare dal fatto quotidiano. Altro argomento di primo piano. A parte Giorgia che soffre a Ursula e scusa a Israele e i deputati picchiatori. Sono 25 inchieste pubblicate oggi dal giornale. Da Torino, Genova, Caserta, Bari e non solo. I trucchi per comprare, scambiare e falsare i voti. Un vademecum raccontato attraverso queste inchieste. Con tutti i nuovi vecchi trucchi per barare alle urne. Schede ballerine, morti ai seggi. 50 euro a voto. Favori ai votanti. Schede bianche riempite dai capibastoni. Dei partiti organizzati. Andiamo sul libero e torniamo a Giorgia Meloni che, secondo Mario Secchi, passa oggi all'incasso. Il Premier chiude il G7 col voto. Un messaggio chiaro. L'Europa riconosca all'Italia il ruolo che le spetta nel governo dell'Unione Europea. Le pagelle del Summit e le bufale dei giornali. Non sceglie l'Italia ma sceglie il Gay Pride. Oggi è libero in primo piano. Un grande successo la sfilata che celebrava i 30 anni del Pride con le polemiche. Però le prendiamo proprio da qui con quelle posizioni antipapa e senza ebrei. Da domani invece la politica, la critica a Giorgia Meloni che trasforma il G7 in uno spot ma l'unico che festeggia Zelensky. Papa Francesco usato come ciambellano dei grandi per coprire l'inutilità dell'evento. La Premier chiude il vertice con una conferenza stampa che è soprattutto un momento di autocelebrazione. Il Summit passerà alla storia più che altro per le polemiche. A gioire è l'Ucraina che però ha ottenuto di fatto quello che voleva. Da domani alla verità sull'altro fronte politico. Grazie alle immunità orientate in Lombardia, Ilaria Salis, l'ipocrisia delle vittime della giustizia. Quali capacità porterà a Bruxelles? Si chiede Maurizio Belpietro, l'ex detenuta in Ungheria. È difficile dirlo. Per mantenere la promessa fatta prima delle europee dovrebbe dedicarsi ai diritti di chi è privato della libertà e cominciare chiedendo il rilascio di Giovanni Totti. Per ora non una parola. Ancora più duro Tommaso Cerno sul tempo che parla di fuggitivi. Con questo fotomontaggio, Ilaria Salis con il padre. Eletta è pronta a scappare dal processo. Il padre scarica Alleanza Verdi-Sinistra con la quale la figlia è stata eletta. Lì per mia figlia, non per loro. Piccoli suma oro crescono a spese degli italiani, scrive il Tempo. Il secolo XIX invece sulla conferenza di pace. Il piano di Zelensky, spiragli dal summit di Lucerna. Kiev annuncia una proposta. La Russia apre al confronto mentre la Cina si propone come mediatore. E poi la Meloni che celebra il successo al G7, celebrato sempre dalla Gazzetta del Mezzogiorno quotidiano pugliese, che oggi titola Puglia Borgo Globale. Altro che pregiudizio, un'accoglienza oltre le aspettative. Dal quotidiano pugliese a quello napoletano, G7 è la nostra Africa, scrive oggi il direttore napoletano. Meloni chiude con successo il summit, condivisa dai grandi la nostra linea. Premier avverte l'Europa, l'Italia deve pesare di più nell'Unione. Effetto G7, l'Italia vuole contare di più per il resto del Carlino. Meloni chiude il vertice, è un successo. In Europa dobbiamo avere il ruolo che ci spetta. E la foto del giorno per l'altra Italia che conta di più, in questo caso 2 a 1 all'Albania. ed è buona la prima. Ancora G7 per l'avvenire, un G7 all'italiana, con Meloni che rivendica successo su Kiev, Africa e migranti. Polemica artefatta sull'aborto, le ONG, ma sul clima e le disuguaglianze non ci sono risultati per le ONG. Va cambiata proprio l'agenda. Gli altri quotidiani che ci restano da vedere, prima di fermarci per un attimo di pubblicità, in manifesto con la celebrazione del Pride di Roma. Il paese che ama, 30 anni dopo il primo Pride nella capitale, una marea arcobaleno, invade Roma per chiedere nuovi diritti e difendere quelli che sembravano ormai scontati, ma che il governo Meloni ha invece rimesso in discussione. Celebriamo anche il calcio con gli europei che hanno visto l'esordio italiano. Troppa grazia, gli azzurri vincono 2-1, scrive il Corriere dello Sport, e la Spagna batte 3-0 la Croazia, aspettando lo scontro diretto. Italia, bella e prima. Bastoni e Barella ribaltano l'Albania, con quel gol dopo 23 secondi, uno spavento per Spalletti, poi la Nazionale domina e spreca anche qualcosina. è un cuore d'Italia per la Gazzetta Sportiva, una super rimonta all'esordio, inizio shock, l'Albania segna dopo 23 secondi, poi Bastoni e Barella in gol, Gigio ci salva e Spalletti dice la bischerata è sempre in canna. Giovedì tocca alla Spagna che ne ha rifilati 3 alla Croazia. Qualche istante di pausa, tra poco torniamo per parlare di quello che è sicuramente l'argomento del giorno, cioè questo, qual è la partita italiana in Europa e come la sta giocando Giorgio Meloni e soprattutto come la stanno giocando gli altri che si vedranno senza di lei in una cena insieme a Ursula von der Leyen. Restate con noi. Ripartiamo da qui, allora, dalla partita italiana e la partita europea, la più importante, chiuso il vertice del G7. Che cosa vuole l'Italia nella partita dei top job europei per trovare un accordo con gli altri leader? Ieri Giorgio Meloni lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa. I primi due temi che interessano a Roma sono che l'Italia venga riconosciuto, il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l'Europa comprenda il messaggio arrivato dai cittadini europei. Le trattative entreranno nel vivo domani alla cena informale di capi di Stato e di Governo organizzata a Bruxelles dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Sul tavolo ci sono le tre presidenze della Commissione, del Consiglio Europeo e del Parlamento, più l'incarico di alto rappresentante per gli affari esteri. Tenuto conto dell'esito delle elezioni, la spartizione prevede che Commissione e Parlamento vadano a PPE il Consiglio Europeo ai socialisti e l'alto rappresentante europeo ai liberali, cioè a Renew Europe, che è anche il gruppo di cui fa parte Emmanuel Macron. Dunque capite che tutto ruota attorno all'esito delle elezioni francesi ed è per questo che qualcuno vorrebbe prendere tempo fino a scoprire l'esito del nuovo voto francese. Qualcuno parla anche di Tenaglia anti Meloni, è il caso della stampa. Domani il vertice per la nuova Commissione pesano le tensioni con Macron e anche Scholz ha preso le distanze, l'avete visto, la leader italiana è sicuramente di estrema destra, ha detto. Giorgia Meloni, è interessante questo passaggio, vuole avere però un piano B in tasca se l'ostilità di Francia, Germania e altri dovesse intorbidire le trattative o puntare su un rinvio o strappare e posizionarsi subito all'opposizione saldando un patto con Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, partito che fra meno di un mese potrebbe anche guidare il governo francese. Ma questa dentro Fratelli d'Italia è considerata davvero un'estrema razio. Interessante anche quello che scrive il corrispondente di Repubblica da Bruxelles, Claudio Tito, con Scholz che dice di Giorgia Meloni è di estrema destra, sulle scianze di Ursula pesa il veto proprio dei socialisti sulla Premier. Il ragionamento che inizia a emergere tra i popolari, scrive Claudio Tito, è però questo. Se la Presidente uscente non è in grado di garantire una maggioranza ampia, perché insistere su di lei? Parliamo di von der Leyen. In effetti la coalizione classica, cioè i popolari più i socialisti più i liberali, il Regno Europe, non offre garanzie. Il sogno di convergenza a destra è stata cancellata dai numeri, nonostante la propaganda del gruppo ECR è cresciuto di poche unità. La maggioranza Ursula può contare oggi su 402 eurodeputati. Il quorum, lo ricordiamo, è 361, ma scrive Tito, il tasso di franchitiratori, tradizionalmente in Europa è molto altro. Dunque 402 non bastano. da tenere anche in considerazione la procedura che vede la prima designazione del candidato alla guida della Commissione da parte del Consiglio Europeo con una maggioranza assoluta che deve rappresentare almeno il 65% della popolazione del vecchio continente. Quindi, senza un'intesa, con Germania, Spagna, Francia e alcuni dei leader popolari, difficilmente si arriverebbe a quella soglia. Altro aspetto, il pacchetto a momento prevede Ursula von der Leyen è il socialista accosta alla presidenza del Consiglio Europeo e il popolare Mezzola confermata a Parlamento. Uno schema preconfezionato, dice Tito, che però non piace a tutti. Paletti, insomma, per l'Ursula Bis, come scrive anche il messaggero, PPE e socialisti divisi su Georgia e in Puglia, faccia a faccia tra Macron, Scholz e von der Leyen senza Meloni, che domani sarà a Bruxelles per la cena informale dei leader, potrebbe chiedere di aspettare il voto francese. E' proprio questa la parte più interessante perché prima di giocare questa partita occorrerà capire quale sarà il peso di Macron alla trattativa, nella trattativa. Un Macron definitivamente sconfitto o un Macron che potrebbe anche risorgere. Tra poco parleremo di cosa succede in Francia verso il voto. I 27 intanto verso Bruxelles, da Scholz e Macron, sprint sulle nomine. Sarà un Ursula Bis, la certezza di Roberto Fabri invece sul giornale. Domani il Consiglio per l'intesa la spinta a confermare la maggioranza con ECR, il partito di cui fa parte Giorgio Meloni, esterno. Non è improbabile, ad esempio, che Ursula von der Leyen ce la faccia essere riconfermata, ma rimane incerto se alla maggioranza possano aggiungersi anche i verdi che la porterebbero però più a sinistra oppure gli stessi di ECR che invece la sbilancierebbero verso destra. Ma Scholz si è già detto contrario. Oppure ancora singoli o piccoli gruppi di non iscritti, di vario orientamento. Ma comunque ricordato che saranno i 27 leader a determinare la scelta del nuovo capo della Commissione che tutto potrebbe essere rimandato al successivo Consiglio Europeo del 27-28 giugno. Dal giornale ci spostiamo sulla Repubblica per l'altro tema importante, l'altro vertice. Si apre a Lucerna la conferenza di pace senza la Russia. chi prova a guardare oltre la guerra porteremo noi hanno fatto sapere il nostro piano di pace ai russi. 92 delegazioni più Kamala Harris. Gli ucraini aprono un secondo incontro con gli inviati di Mosca e Pechino entrambi assenti. Anche il ministro Tagliani ha annunciato in plenaria l'invio da parte dell'Italia di un nuovo pacchetto di aiuti militari. Intanto è detto che la Cina ha fatto male a non partecipare. Attorno a questo tavolo dovrà uscire una proposta probabilmente per quello che sarà il prossimo vertice al quale potrebbe partecipare la Russia che sarà effettivamente quello decisivo secondo quello che scrivono oggi i giornali. A tavolo ci sono anche le ombre russe senza Putin non si tratta stati neutrali i governi che hanno con Cremlino rapporti economici sono in Svizzera ma come osservatori dello Zarci ricorda il messaggero la Cina non si presenta e gli Stati Uniti dicono glielo ha chiesto direttamente Mosca. A fronte di una Russia scusate torniamo sul giornale perché c'era un passaggio interessante da leggere a fronte di una Russia che ha dimostrato di non essere poi così isolata nel mondo sappiamo benissimo come vengono aggirate le sanzioni come l'Occidente sperava attraverso le sanzioni l'offensiva diplomatica Mosca continua ad avere il sostegno della Cina e di altri paesi come Corea del Nord e meno esplicitamente l'India l'inverso e fronte occidentale ha dovuto sperimentare negli ultimi mesi e anni una progressiva difficoltà a far valere le proprie ragioni verso Mosca specialmente nel cosiddetto Global South che una volta era indicato come l'insieme dei paesi in via di sviluppo e abbiamo parlato molto in passato anche di questo aspetto due consiglieri che vi faccio leggere adesso interessanti il primo raccontato e intervistato da Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera Andri Yermak produttore cinematografico ucraino nominato da Zelensky capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina nel febbraio del 2020 che dice la Cina non c'è pazienza noi lavoriamo comunque con gli inviati perché vogliamo elaborare un progetto negoziale con i nostri alleati e arrivare ad un vero piano di pace che sia sostenuto da oltre 100 paesi che possa essere presentato a un prossimo summit come vi dicevo dove sarà molto difficile rifiutarlo il piano diventerà una vera roadmap tesa a risolvere questa crisi ed evitare che si ripeta nel futuro il nostro sistema di procedere serve anche per rispondere a chi ci accusa di non aver invitato la Russia lo ribadisco ancora avevamo la necessità di sedersi al tavolo con i nostri alleati che condannano l'aggressione Russia e concordano sulla necessità che noi si liberi le nostre terre occupate questo sul fronte ucraino diciamo così poi c'è invece l'intervista a firma di Giovanni Pini a Sergei Markov ex consigliere di Putin che dice da Putin enormi compromessi a Kiev Lascia Odessa e Kharkiv per un piano di pace che è stato giustamente bollato da tutti come una provocazione perché Putin ha scelto proprio la vigilia del G7 e poi del summit in Svizzera per avanzare la sua proposta è chiaro vuole che a questo summit si parli delle sue proposte di pace non di quelle che avete appena sentito di Zelensky Putin dà molta importanza a questo summit in Svizzera non perché lo tema ma perché ci vede un'ottima opportunità per dividere definitivamente l'Occidente collettivo dal sud globale in Svizzera l'Occidente dirà discuteremo della formula di Zelensky e il sud globale risponderà siete pazzi qui non c'è niente da discutere è meglio discutere le proposte di Putin e su questo insomma abbiamo già fatto chiarezza è stato interessante leggere il titolo del solo 24 ore oggi che parla di un'altra guerra mondiale e ve l'avevo preannunciato l'articolo di Giuliano Noci nella sua analisi sul sole la guerra mondiale dei dazi e l'autolesionismo economico potrebbe essere il soggetto di una commedia scrive perché se da una parte l'Europa anche se l'ultimo risultato elettorale sembra sempre più antiglobale e frazionata dall'altra è sempre più in preda la fobia di essere mangiati in un sol boccone dal terribile dragone cinese lo è anche l'America di Biden e lo sarà ancora di più nel caso quella di Trump e quindi scoppia la guerra mondiale dei dazi le politiche climatiche non badano a spese di Bruxelles sono al centro del malcontento degli elettori la risposta a una nuova misura che renderà ancora più costosi i veicoli elettrici attraverso i dazi che sono stati appena enunciati dall'Europa ricorderete un paio di giorni fa fino al 38% più il 10% già in vigore Turchia 40% e qualche settimana fa gli Stati Uniti 102,5% da qualunque prospettiva la vogliamo guardare possiamo riassumere questa postura globale anti-global con un concetto netto auto-lesionismo economico posizione davvero molto interessante dicevamo dell'importanza del peso di Macron nelle trattative per le nomine europee e anche per il resto ieri la Francia si è presentata così una marea anti-Le Pen cortea a Parigi in tutto il paese con la manzata dell'estrima destra del partito di Marine Le Pen e si rivede anche una vecchia conoscenza cioè François Hollande che dice mi presenta alle elezioni decisione eccezionale perché è una situazione grave e lo ritroviamo su Repubblica alla sinistra francese in piazza per Dinamo Le Pen e Hollande torna in campo il fronte popolare raduna quasi un milione di persone contro l'estrema destra siete il partito dell'odio cori anche contro il candidato premier Bardellà e la nostra politica invece un paio di segnalazioni velocemente l'aria Salis rientra tra gli applausi domani doppia festa per i 40 anni l'arrivo a Monza con il padre che annuncia adesso mi dimetto da sua portavoce mi sembra molto più interessante da questo punto di vista un'intervista di Francesco Verderami al Cardinal Ruini ricorderete ex presidente della CEI che dice che racconta tra le tante cose quel pranzo al collo in cui Scalfaro mi chiese un aiuto per far cadere Berlusconi è una conferma a qualcosa che è uscito nel libro edito dal Corriere della Sera sui presidenti della Repubblica il collo d'Italia si racconta di un pranzo al Quirinale che sarebbe avvenuto subito dopo l'estate del 94 c'è scritto che da loro a capo dello Stato Luigi Scalfaro Oscar Luigi Scalfaro avrebbe invitato lei il cardinale Sodano e Monsignor Tauran per chiedervi di aiutarlo a far cadere il governo Berlusconi e che la vostra risposta sarebbe stato un silenzio imbarazzato Ruini impiega un po' prima di rispondere poi dice effettivamente andò così la nostra decisione di opporci a quella che ci appariva come una manovra fu unanime anche se dice al di là della buona fede in dubbia di Scalfaro e pensare che Scalfaro era stato per me un grande amico tutto questo mentre come sapete si riallacciano i rapporti tra ne abbiamo parlato l'altro ieri Massimo D'Alema e il cardinal Zuppi che è l'attuale presidente della CEI e come sapete CEI che ha posizioni molto critiche sulle riforme di Giorgia Meloni interessante da questo punto di vista Elish Line invece ieri era con il Pride difendiamo noi i diritti è stata per lei la prima prova di piazza la segretaria Dem ha detto che al G7 è stata persa un'altra occasione al corteo tante bandiere per la Palestina assente la comunità ebraica e qui siamo nella zona delle critiche il PD intanto manifesta contro il premierato la cronaca invece con qualche spunto intanto la foto una delle foto del giorno con la principessa malata che torna in pubblico l'abbiamo già vista la moglie di William nonostante le cure sembrano in forma grazie per il tuo coraggio tornando in Italia quell'avvocato e fratello uccisi invece per i beni all'asta a Caserta una guata in mezzo alla strada con il killer che poi si è dato alla fuga ma è stato fermato dai carabinieri poco dopo l'esecuzione poteva essere un'altra tragedia dopo quella del Natisone andate invece meglio e siamo sul gazzettino per questa che è un'altra delle foto che trovate oggi su tutti i giornali per due persone che hanno cercato di attraversare il Brenta in piena ed è finita così uno si è salvato l'altro è stato salvato rimanendo aggrappato per diverso tempo a un tronco una follia ribadisce il giornale di un 35enne bengalese di un amico in crisi a metà del guado per la forte corrente evidentemente la cronaca insegna poco le notizie più curiose del giorno le prendiamo sempre da pagina 23 della verità ma questa era particolarmente interessante in tema di furbetti da noi ci sono i furbetti del cartellino qui ci sono i furbetti del mouse in America simulano il lavoro spostando il mouse grazie a una app è andata male sono stati licenziati una delle più grandi banche americane che ha licenziato una decina di dipendenti l'accusa qual è? erano i smart working ma non stavano affatto lavorando poi avevano scogitato un sistema interessante per consentire al mouse di spostarsi e simulare un lavoro anche la tastiera che in realtà non c'era è al lavoro la sua postazione invece Fabio Angelicchio con tutte le anticipazioni del telegiornale che parte tra pochi minuti Fabio sì grazie Marco buongiorno buongiorno a tutti voi ben ritrovati allora alcune anticipazioni come dicevi andremo a vedere che cosa accade in Svizzera ieri c'è stata la prima giornata di lavori di questa conferenza di pace dedicata all'Ucraina grandi assenti però sono sia la Cina che la Russia e infatti un comunicato diffuso nella notte dice che il raggiungimento della pace richiede il coinvolgimento e il dialogo di tutte le parti appunto un chiaro riferimento sia a Mosca che a Pechino e di Ucraina lo sapete si è parlato al G7 che si è chiuso ieri in Puglia c'è stato un bilancio sostanzialmente dei lavori da parte della Premier Giorgia Meloni in conclusione nella conferenza stampa ha detto che c'è stato sicuramente un successo e poi naturalmente ci sono state però anche le repliche le dichiarazioni le polemiche dei leader dell'opposizione proprio alle parole della Meloni e poi ieri debutto per l'Italia gli europei di calcio vittoria sofferta contro l'Albania ha vinto anche la Spagna che incontreremo giovedì prossimo ma di questo parleremo tra poco adesso andiamo a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore con Paolo Sottocorona Sì grazie buongiorno questa è la situazione di oggi come vedete di piogge ben poche e anche qualora ci fossero parliamo delle zone alpine anche qualche zona interna sull'Appennino in Sardegna sono in prevalenza sul verde il verde indica quantità di circa un millimetro o due millimetri nelle 24 ore quindi capite che sono piogge neanche deboli debolissime eventualmente il grigio di qualche nuvola oltre questo non si va giornata di domani rimane lo stesso lo stesso schema del tempo con qualche precipitazione sulle zone alpine soprattutto nel pomeriggio in qualche caso forse anche sull'Appennino e se no cielo sereno poco nuvoloso arriviamo alla giornata di martedì che conferma questa situazione vedete qualche precipitazione in zona alpina sempre appunto nel pomeriggio sulle altre regioni passa forse qualche nuvo oltre questo non si va le minime di questa mattina in aumento soprattutto al centro sud leggermente rispetto a ieri ma la tendenza è questa è un po' è un po' a salire e chiudiamo con lo stato dei mari che sono diciamo piuttosto tranquilli stretto di Sicilia Ionio Adriatico gli altri nonostante siamo in zona di alta pressione ancora localmente mossi lo sono mi aspettavo un'attenuazione del moto ondoso un po' più marcata anche su queste zone ma ci vorrà ancora un pochino di tempo se volete noi ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi